Non c'è ancora stata la proclamazione degli eletti. Si prevedono tempi lunghi per Consiglio e Giunta a Regionali. Due algeresi in corsa per un assessorato, il forzista Marco Tedde e Pietrino Fois, coordinatore dei riformatori sardi. Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico, percentuale largamente al di sopra della soglia minima del 50% più 1. Vittoria Netta anche ad Alghero con l'80%. Nella pagina sportiva parleremo dei risultati del weekend. Amatori rugby sconfitta con onore a Roma nel campionato di calcio di seconda categoria. Male Laudax, Bene Treseliges, vittorie per Mercede e Coral. Buon inizio di settimana a tutti voi e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Tempi lunghi sono quelli che si prospettano per la programmazione degli eletti al Consiglio regionale, dunque anche per vedere la nuova giunta. Siatene la Corte d'Appello, tra gli algheresi Tedde in corsa per diventare assessore, ma qualche chance potrebbe averla anche Pietrino Fois. A una settimana dalle edizioni non si conosce ancora la composizione del nuovo Consiglio regionale, tanto meno quella della giunta, ma le forze di maggioranza hanno già chiarito che questo discorso verrà affrontato una volta che ci sarà la proclamazione degli eletti. Nel 2014 passò quasi un mese e anche stavolta si prevedono tempi lunghi. All'Appello mancherebbero 35 sezioni e 15.000 schede contestate, voti che potrebbero essere determinanti nell'assegnazione dei seggi, anche a discapito di Forza Italia a favore dei riformatori sardi. In questo momento sei spetterebbero agli azzurri, tre ai riformatori, ma per i primi potrebbero scendere a cinque e per i secondi salire a quattro. Il conteggio dei voti contestati o mancanti spetta agli uffici centrali circoscrizionali, mentre la proclamazione degli eletti sarà cura della Corte d'Appello. C'è poi il nodo ricorsi che potrebbe allungare ulteriormente i tempi e provocare un waltzer simile a quello avvenuto nell'ultima legislatura. Tra gli algheresi, intanto, l'unica ad essere sicuro di entrare nell'aula di Via Roma è il leghista Michele Paes, mentre nutre qualche speranza il forzista Marco Tedde, più per un ruolo nella giunta regionale. Però al Partito Azzurro, infatti, dovrebbero aspettare due assessorati. Ma c'è un altro algherese che potrebbe rientrare nel tutto assessori. È il coordinatore regionale dei riformatori sardi, Petrino Fois, già assessore nell'undicesima e dodicesima legislatura. Per la giunta, però, se ne parlerà probabilmente a marzo inoltrato. Ad oggi non ho i poteri e le prerogative del Presidente della Regione, ha detto lo stesso Sorinas, rispondendo a chi chiedeva un intervento sulla questione dei pastori. Non resta che attendere, allora, sperando anche stavolta non siano tempi biblici. Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico. Questo l'esito delle primarie, con il governatore del Lazio, che avrebbe ottenuto circa il 65%, anche se i dati sono ancora parziali. sicuramente però un dato largamente al di sopra della maggioranza necessaria del 50% più 1. Circa 1.700.000 invece i votanti in tutta Italia negli oltre 7.600 già allestiti. Alle spalle di Zingaretti, Maurizio Martina con il 20% circa dei consensi a seguire Giacchetti con un dato poco superiore al 10%. Non sarà un capo, ma il leader di una comunità, detto ieri di sera, una volta che sono usciti i primi risultati, grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso. Ad Alghero, invece, vittoria ancora più netta per Zingaretti. L'80% dei votanti, che sono stati 860, hanno votato per il governatore del Lazio. Il 12%, la percentuale raccolta invece da Martina, l'8% per Giacchetti. Era la politica locale. Abbiamo parlato nei giorni scorsi delle polemiche sulla brochure di fine mandato che l'amministrazione vorrebbe consegnare nelle case degli algheresi e dell'ipotesi di spesa di circa 30.000 euro. Sul tema intervengono anche Nunzio Camerada e Ferdinando Manconi per Forza Italia. Con la delibera numero 42 del 14 febbraio, la Giunta Comunale, sostenendo un'interpretazione quantomeno bizzarra della norma, ha trasformato la cosiddetta relazione di fine mandato in un vero e proprio strumento propagandistico a spese del contribuente, sostengono in una nota i due esponenti azzurri. Oltre 30.000 euro individuati nelle pieghe del bilancio comunale per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante l'incarico, disamina che la norma vorrebbe stilata attraverso un semplice modello da pubblicare sul sito istituzionale del Comune. Alghero, ricordano Camerada e Manconi, vantaggia, oltre al sopracitato sito web e all'albopretorio, anche una pagina Facebook e una pletora di addetti stampa più che sufficienti per espletare gli obblighi di regge e anzi superarli agevolmente senza incidere ulteriormente sulle casse comunali senza frugare tra le tasche dei cittadini. Pertanto ogni altra forma di pubblicità diversa da quella prevista dalla legge che comporti spese a carico del bilancio comunale sono evidentemente da ritenersi superflue e gravemente lesive del principio di economicità cui deve sempre uniformarsi l'azione della pubblica amministrazione. Non è ammissibile, proseguono i due forzisti, che un preciso obbligo di legge posto a carico del sindaco e del segretario del responsabile dei servizi finanziari per il cui adempimento non sono previsti oneri a carico dell'ente e debbano essere pagati dalla collettività per scelta della giunta uscente per porre in essere una sorta di vera e propria propaganda elettorale anticipata sotto forma di onerose brochure a spese degli algheresi. Ma poi si chiedono in conclusione per raccontarci cosa. E questa mattina intanto la deputata algherese del Movimento 5 Stelle Paola De Iana ha effettuato un sovralluogo presso il poliamburatorio ATS del distretto di Alghero in via degli Orti, una visita sollecitata dai sindacati e dal territorio durante la quale la parlamentare ha incontrato i dirigenti medici e il personale sanitario per ascoltare le problematiche cui quotidianamente è sottoposto lo stesso a poliambulatorio. Si tratta di un primo incontro, ha fatto sapere la De Iana e qui ne seguiranno altri in tutta la provincia. Ma sentiamo proprio le sue parole, intervistata dalla collega Cristina Tangiano. Paola De Iana, deputata del Movimento 5 Stelle, questa ad Alghero, la sua città, è la prima di una serie di visite che li effettuerà in tutta la provincia. Che cosa è emerso da questa visita? Ma sostanzialmente è emerso quanto già riferitomi dagli utenti ossia delle liste d'attesa molto lunghe però mi pare di aver riscontrato anche un ulteriore problema ossia le ore dedicate alle specialità e quindi ai medici sono abbastanza ristrette e in più i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti. Questo quindi implica un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Quindi io cercherò insieme anche agli altri parlamentari sardi di portare queste istanze anche in Regione e ovviamente anche al Governo. Ad esempio ho potuto parlare con i medici, con il direttore del distretto. C'è un ufficio ticket, ad esempio, chiuso da tre anni e quindi i pazienti sono costritti ad andare a pagare il ticket o all'ospedale civile o al marino, questo è un altro disagio che appunto ha potuto vedere con Manu oggi. Sì, assolutamente. Altro disagio che tra l'altro ho riscontrato in prima persona pare vi sia una carenza di personale quindi anche questa situazione sarà tutta da verificare cioè capire come mai non vede il personale dedicato al pagamento del ticket in loco. Ci fermiamo ora per una prima pausa pubblicitaria. La Polizia ha denunciato un 47enne algherese con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti del commissariato di Via Kennedy durante il servizio di controllo del territorio hanno notato l'uomo che spingeva un carrello di un supermercato coperto da un lenzuolo bianco adagiato sopra. Gli agenti, riconosciuto l'uomo noto per i suoi precedenti hanno certato che all'interno del carrello c'erano una bicicletta da donna, 10 monopattini di cui alcuni ancora confezionati un monopattino elettrico e due paia di pattini a rotelle tipo rollerblade da bambino ancora imballati nelle confezioni di vendita coperte di fuligine dell'esercizio commerciale risparmio casa che come è noto è andato completamente distrutto nel luglio del 2017 a causa di un incendio di vaste proporzioni ancora oggi lo stabile dove è situata l'attività commerciale risulta sotto sequestro pertanto il 47enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli eccellente risultato della Poderi Parpinello al concorso internazionale Berliner Wine Trophy considerato il più quotato evento enologico della Germania l'azienda Viti Vinicola di Alghero comunica con piacere che il suo Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2015 è stato premiato con la medaglia d'oro dai giudici della rassegna berlinese è un importante riconoscimento internazionale ed è una grande soddisfazione ricevere un premio per il lavoro svolto con impegno e passione dichiara l'enologo Gian Paolo Parpinello fondatore dell'azienda Viti Vinicola il Berliner Wine Trophy è il concorso enologico internazionale diventato nel corso degli anni la più importante e più grande degustazione di vini della Germania la competizione enologica giunta alla sua 23esima edizione ha visto la partecipazione di 1426 aziende di 41 paesi con vini, spumanti e liquori provenienti da tutto il mondo per quattro giorni i giudici a porti chiuse hanno degustato i campioni registrati al concorso dopo una prima valutazione tra le migliori etichette di questa edizione è stata effettuata una seconda degustazione stilata un ulteriore giudizio una sorta di finalissima tra il top dei vini in gara per questo ogni medaglia segnata nel Berliner Wine Trophy è in qualche modo speciale una garanzia di livello di qualità del vino e rende le etichette premiate le più ricercate tra i consumatori dal vino passiamo all'olio perché c'è ancora una settimana di tempo lo fa sapere la Coldiretti per potersi iscrivere alla quarta edizione del concorso Ozzu Sardu riservato agli oli extravergine di oliva regionali organizzato da Coldiretti Nord Sardegna con il patrocinio del Comune di Sassari in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari e l'Appos il concorso è aperto agli ubbisti ai frantoi e alle aziende le tre bottiglie contenenti gli oli partecipanti al concorso dovranno pervenire presso la sede della Coldiretti Nord Sardegna o la sede Appos in via Budapest 10A a Sassari entro questo venerdì 8 marzo per informazioni sul concorso si possono contattare la responsabile della segreteria provinciale Nord Sardegna Serena Sanna al numero 079 211 2400 il tecnico Appos Luciana Puzzolu allo 079 21 12 4 2 4 al via una donna può tutto la nuova rassegna nata dal progetto T per T teatro per tutti con le lucido sottile tanto cinema d'autore dal 7 al 10 marzo il teatro di Alghero il programma si presenta a fiuto di appuntamenti i pomeriggi dal 7 dell'8 marzo saranno dedicati alla regista Gabriella Rosaleva a partire dalle 16.30 saranno proiettati tre dei suoi film La vocazione Viaggio a Stoccolma e Processo a Caterina Ross l'8 marzo alle 21 sarà la volta del film islandese La donna elettrica di Benedict Erlingsson la sera del 9 marzo sempre alle 21 l'attesissimo spettacolo dissacrantemente lucide lucidissime delle lucido sottile con cui il duo di attrici e autrici cagliaritane Tiziana Troia e Michela Sale Musio la rassegna si chiude domenica 10 marzo con un doppio appuntamento alle 19 lo spettacolo per un'ora d'amore Unplugged della compagnia Teatro d'Inverno con Giuseppe Ligios Maria Grazia Meloni Antonella Salaris Francesca Dettori Stefania Ambrogi Emilio e Gianfranco Salvio alle 21 appuntamento al ristorante Pizzeria e Pultal con un originale performance gastronomico musicale della violinista Adele Madau per un viaggio sensoriale nel gusto per informazioni e prenotazione su spettacoli e film si può contattare Teatro d'Inverno dal numero 388 57 21 808 ci fermiamo per un altro break tra poco con lo sport e allora eccoci con la pagina sportiva e l'ultima parte del nostro telegiornale iniziamo con il rugby sconfitta in trasferta per l'Alghero nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A girone 3 la formazione algherese ha perso ieri pomeriggio per 30 a 18 sul campo della capolista Capitolina ed è scesa al terzo posto sempre con 38 punti nonostante la sconfitta l'Alghero ha giocato una buona gara in casa della prima della classe sconfitta in casa della capolista per l'amatore rugby Alghero che nonostante non sia riuscita a guadagnare neanche un punto dalla trasferta di ieri pomeriggio si è resa autrice di una buona prestazione 30-18 il risultato finale di una gara molto tirata tratti giocata alla pari e in altri con la capitolina che si è dovuta difendere non poco dagli assalti algheresi i quattro cartellini gialli per la formazione romana contro l'unico dei catalani inflitto a Fernandez ne sono la prova ma tant'è che la capolista ha fatto valere la sua posizione ma soprattutto il fattore campo contro una squadra l'Alghero che sta soffrendo ancora per la non perfetta condizione di diversi suoi giocatori scesi comunque in campo nonostante non fossero al 100% che non sarebbe stato facile lo si sapeva già dalla vigilia ma la squadra di Paoletti ha cercato di andare a Roma per far punti e per provare a vendicare la sconfitta che la stessa capitolina gli inflissi all'andata sul campo di Maria Pia la cronaca racconta che a guidare la gara sono stati sempre padroni di casa con il primo tempo chiuso sul 22 a 8 tre le mete della capitolina di cui due trasformate a firma di Crivellone Franco e Rampa con la trasformazione di Mazzi autore anche di un piazzato per l'Alghero invece il primo tempo si chiude con i 5 punti della meta di Micheli nella ripresa l'Alghero ha provato a spingere per rimettere in pari le sorti della gara siglando un parziale di 8 a 10 che però non è stato sufficiente a colmare il gap Lorenzo Bombaggio e ancora Micheli gli autori delle due mete catalane mentre per i laziali meta di Crivellone e piazzato di Mazzi la gara terminerà così con il punteggio di 30 a 18 l'intera posta in palio per la capolista che con i punti guadagnati ieri è salita a quota 49 e ha approfittato anche del pareggio tra le due seconde Catani e Prato scivola al terzo posto l'Alghero che resta a 38 ora il campionato si rifermerà per due settimane ancora per il 6 nazioni si ritornerà a giocare il 24 marzo quando a Maria Pia arriverà il temibile Catania Dal rugby al calcio in seconda categoria Girone I si allontana anche il secondo posto per l'Audax che ieri ha perso 2-1 sul campo della vice capolista Ploaghe Botta e risposta nel primo tempo inizio primo tempo con l'iniziale vantaggio dei padroni di casa il momentaneo parigi olgherese con Bombaggi al novantesimo il gol vittoria però per il Ploaghe Audax che scivola a meno 8 dal secondo posto raggiunta quota 39 dal Treseiliges che ha vinto 2-1 in casa contro la San Paolo Frau e Muras i marcatori per la squadra di Bardini in mezzo il gol dei Sassaresi in prima categoria Girone D invece terzo K.O. consecutivo per l'Olmedo battuto di misura 1-0 sul campo del Berchidda Biancoverdi che anche ieri hanno dovuto fare i conti con le assenze che restano comunque al secondo posto seppure ora a meno 10 dalla capolista Lanteri con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici che sono Luogosanto e Codrongiano su una breve parentesi anche sul calcio a 5 weekend Dolce Amaro per le due formazioni locali nel Girone B del campionato regionale di C2 la Futsal Alguero ha consolidato il secondo posto grazie alla vittoria in rimonta per 8-6 sull'Uras giallorossi che si sono ritrovati sotto 3-0 poi tra fine primo tempo e secondo hanno messo a segno un parziale di 8-0 32 autori di 4 gol Sarrizzu con una doppietta Becca e Cano i marcatori per l'Alguero con gli ospiti che hanno reso meno pesante il passivo andando in rete poi altre tre volte sul finire della partita squadra di Mister Kosu che è sempre a seconda ma ora con 5 punti di vantaggio sull'Audax e 6 sul Budoni che sarà proprio il prossimo avversario K.O. esterno invece per l'altra formazione angherese l'Audax appunto che ha perso 4-3 contro il Porto Rotondo bianco-verdi che nel prossimo turno ospiteranno al Paracorbia l'Arzachena chiudiamo la pagina sportiva il TG con il basket del risultato della Mercedes nel campionato di Serie C femminile abbiamo già detto sabato con la netta vittoria per 79-42 contro l'Accademia Olmeda allora oggi spazio al basket maschile alla Serie D dove era in programma l'ottava giornata di ritorno ovviamente la capodista Coral ha conquistato un importante successo sul campo della scuola basket Carbonia 85-100 il risultato finale match equilibrato nei primi due quarti poi dopo l'intervallo lungo i ragazzi guidati da Coccio e Barracuo hanno preso il largo soprattutto nell'ultimo parziale che è il risultato quello decisivo 4-4 i giocatori in doppia cifra nella Coral Serra con 31 punti Bonalume con 19 Ponziani con 18 e Di Mauro con 16 in classifica gli algeresi sono sempre primi con 34 punti due in più dell'Uri nel prossimo turno un'altra trasferta lontana stavolta sul campo del Sinnai e il basket chiude l'edizione di Anna del nostro telegiornale ci rivediamo domani grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti Grazie.